Bentornati. Allora, quando Arthur Rubenstein, uno dei più grandi pianisti della storia, dice che ti invidia e che ti ammira, quando ricevi omaggio e stima da pianisti come Bacaus, Horowitz, Gould, Arrau, Busoni, vuol dire che non sei esattamente uno dei tanti. Oggi parliamo della figura di didatta forse più enigmatico del Novecento, non meno per quanto riguarda la pianoforte. Oggi parliamo di Vincenzo Scaramuzza. Allora, perché più enigmatica? Perché è stata una figura veramente strana. In Italia, alla fine, neanche conosciutissimo. In Argentina, invece, il suo paese di adozione era famosissimo e ha lasciato decisamente un ricordo indelebile anche a tanti anni ormai dalla scomparsa. Allora, Scaramuzza nasce nel 1885 a Crotone e muore nel 1968. Inizia a suonare il pianoforte con ottimo profitto fin da bambino e a 12 anni viene ammesso il conservatore di Napoli, che a quei tempi aveva probabilmente la migliore scuola pianistica d'Italia e sicuramente una delle migliori d'Europa e del mondo intero. Nella commissione c'era Giuseppe Martucci, musicista immenso, che sarà poi legato a Scaramuzza anche da una forte amicizia. Nel 1905 si diploma, inizia a insegnare subito come insegnante volontario, diciamo così, nel conservatorio di Napoli. Nel 1907 fanno un concorso, quindi per l'asseminazione della cattedra, lui partecipa insieme ad altri 23 candidati e arriva secondo. Questo arrivare di secondo però gli precluderà la possibilità di poter insegnare il pianoforte principale ma dovrà contentarsi della cattedra di pianoforte complementare. In realtà non si accontentò per niente perché dopo circa un mese fece le valigie e da Napoli si trasferì a Buenos Aires. Perché Buenos Aires? Perché il conservatorio di Santa Cecilia aveva aperto una specie di succursale, diciamo così, a Buenos Aires e insegnò appunto in questa succursale di Santa Cecilia per cinque anni. Dopodiché aprì una sua scuola, una sua accademia pianistica. In questa accademia formò tutta una generazione di pianisti, tra cui Bruno Gelber, Enrique Barenboim, il papà di Daniel Barenboim, in questo senso Daniel è un po' il nipote di Scaramuzza, non solo poi Daniel comunque era uno dei bambini che frequentava a casa Scaramuzza, insomma. Quindi anche se Scaramuzza non ha mai insegnato a Daniel, però come dire Daniel era di casa e ricordiamo che Enrique Barenboim, quindi il papà di Daniel, è stato fondamentalmente il suo unico insegnante. Ecco, quindi c'è veramente, quindi nella tecnica e nella forse stessa concezione musicale stessa di Daniel Barenboim c'è sicuramente una parte importante di Vincenzo Scaramuzza. Come detto si trasferisce a Buenos Aires, l'Argentina diventerà la sua seconda patria, tanto è vero che mutterà il proprio nome da Vincenzo Francesco in Vicente Francisco Scaramuzza e manterrà, poi comunque non rinuncerà mai alla città anzitaliana, manterrà il doppio passaporto per tutta la vita. Da qui parte una carriera notevole che lo porta nelle più prestigiose sale del mondo e contemporaneamente continua l'attività di didatta, l'attività di insegnante. Solo che nel 1923, a soli 38 anni, Scaramuzza smette di suonare. La vera ragione non è mai stata appurata, si parla di quello che viene detto in gergo un track da paccoscenico, cioè una crescente ansia dovuta alle performance che a un certo punto rende a molti musicisti praticamente impossibile esibirsi in pubblico. Una cosa psicologica evidentemente, per certi versi psicosomatica, perché si aggiunge sudorazioni, dolori vari, insomma, però in molti casi è psicosomatica, ma c'è ovviamente. La cosa strana non è tanto che gli sia accaduta questa vicenda, se questa è la vera ragione per cui ha smesso di suonare. La cosa strana è che generalmente queste, non so se definire le patologie è corretto, ma comunque diciamo questi avvenimenti accadono raramente a chi come Casicaramuzza si esegue in pubblico da bambino, accadono di più a chi ha dovuto costruirsi un lato pubblico, a chi magari non ha cominciato proprio da piccolissimo esibirsi. E quindi in questo senso, io che sono uno di quelli che in pubblico non provo nessun tipo di emozione, nel senso non mi agito, non mi aumenta la sudorazione, non mi batte il cuore più forte di quando sto parlando a casa mia con i miei familiari, e quindi anch'io sono abbastanza lontano da questa cosa, però capisco, io ho conosciuto tantissimi musicisti che hanno avuto questo problema, che poi a un certo punto ha reso loro la professione praticamente impossibile. Scaramuzza quindi smette di suonare completamente, e la cosa strana è che smette di suonare anche con i suoi allievi, e questa cosa è veramente stranissima, perché un insegnante di pianoforte è il primo che dovrebbe far sentire all'allievo come si fa un passaggio, un fraseggio, un'interpretazione, una dinamica, invece lui non sa più neanche davanti agli allievi. E allora potresti dirmi, vabbè, e allora come insegnava? Ecco, si inventa veramente un metodo, direi tutto suo, anche se poi ha preso anche da altri metodi, adesso vedremo quali, insomma. Però diciamo comunque, che struttura, un metodo di insegnamento, e ovviamente capite bene che non facendo sentire lui in prima persona agli allievi come doveva fare un determinato passaggio, un metodo diventava fondamentale, insomma. Perché c'è o l'esempio, guarda, va fatto così, oppure devo spiegare all'allievo che va fatto così senza fargli sentire come va fatto. Capite che può essere un passaggio non semplice. La cosa strana è che questo metodo che lui ha sviluppato nel corso di quasi 60 anni di insegnamento non l'ha mai, come dire, codificato, non l'ha mai trascritto, non l'ha mai pubblicato. Cosa strana perché già dall'Ottocento e ancora nella prima metà del Novecento si sprecavano i trattati di pianoforte, proprio di insegnamento della tecnica delle pianoforte, di insegnamento dello strumento. Tutti i grandi didattili ne avevano scritto uno e oltretutto la cosa era anche un business non da poco, insomma. Quindi strano che lui che aveva sviluppato un metodo abbastanza innovativo, non del tutto assolutamente perché, ma comunque abbastanza innovativo, non l'abbia mai teorizzato e non l'abbia mai pubblicato. Come detto, forma intere generazioni di pianisti, di concertisti, tanti fanno un'eccellente carriera, ma ce n'è una che si stacca decisamente dagli altri. È il 1946 e questa bambina comincia a studiare con lui. Chi è? Probabilmente è la più grande pianista della sua generazione. Qui la vediamo qualche anno dopo, ma ancora ragazzi, intorno agli 17 anni, la riconosciamo naturalmente Marta Argerich. E tra l'altro qui mi sorge un dubbio esistenziale perché ho ascoltato un'intervista di Scaramuzza dove lui dice Argerich. Quindi magari io ho sempre detto Argerich e magari mi chiede Marta come ti chiami? Però finché Marta non si deciderà a rispondermi, continuerò a chiamarla Argerich. È il 1957, la Argerich ha 16 anni e diventa famosa per aver vinto una serie di concorsi mondiali e da lì la sua carriera parte. E come accade sempre in questi casi, l'ascesa di un nuovo astro del pianoforte, soprattutto di un astro così fulgido come quello di Marta Argerich, porta immediatamente fama e interesse al suo insegnante. Perché si dice chi è l'insegnante che ha formato questo fenomeno. In realtà Scaramuzza diceva sempre, in questo ovviamente gli va riconosciuto, che nel successo di un proprio pianista l'1% è la capacità del maestro e il 99% sono le capacità dell'allievo. Marta Argerich studierà con lui per 5 anni, quindi diciamo dai 5 ai 10 anni, e quindi quando poi la sua carriera esploderà a 16 anni, in realtà lei non studiava più con Scaramuzza. Non studiava più da 6 anni circa, ma perché c'era stato un diverbio, un battibecco tra la di lei madre e Scaramuzza. Per questioni mai chiarite, però insomma alla fine Scaramuzza non insegnerà più a Largerich, che però andrà a studiare con un allievo di Scaramuzza. Quindi come dire, però il metodo, la scuola resterà la stessa. Allora, non avendo Scaramuzza mai teorizzato il suo metodo, e quindi tutto quello che lo sappiamo, lo sappiamo fondamentalmente dalle informazioni estremamente frammentari che ci hanno dato i suoi allievi, è difficile, come dire, veramente spiegare esattamente in cosa consistesse, ma mi sono fatto un'idea abbastanza precisa e ora ve la espongo. Tenete presente però che fino al 1973, anno in cui una sua ex allieva scriverà un libro sul metodo Scaramuzza, quindi raccogliendo, a parte la propria esperienza personale, ma anche testimonianze di altri allievi, come dire, scriverà un libro in cui teorizzerà questo metodo. Questo metodo didattico nasce dall'intuizione che il movimento della mano, delle dita e del braccio formino un insieme di leve che assecondano o resistono alla gravità. Cioè a dire che il peso del tocco, ancora più e ancora prima che dalla forza muscolare, dovrebbe essere determinato dalla forza di gravità. Scaramuzza identificò cinque tocchi principali, cioè tocco di braccio, di avambraccio, di polso, di articolazione e scatto del dito. Scaramuzza nel suo metodo va sempre a una definizione atomica molto precisa, spesso fa dei disegni del muscolo ai suoi allievi e non solo proprio, il disegno fa parte sempre del suo metodo didattico, anche perché lui tramite il disegno specifica quello che non sta facendo sentire suonando lui in prima persona. E quindi questa, come dire, importanza che assume la gravità, unita all'importanza di un rilassamento totale, perché tanti pianisti, ma tanti strumentisti in generale spesso suonano molto contratti, molto rigidi, poi infatti negli anni poi hanno dolori o difficoltà muscolari e così via. Questa cosa, come dire, è la base del suo metodo. L'altra caratteristica particolare è che lui apparentemente non faceva fare esercizi di tecnica, cioè dire, o meglio, non faceva fare esercizi tecniche tradizionali, cioè chiunque abbia studiato uno strumento lo sta bene, prima di affrontare un pezzo di musica, un pezzo scritto da Mozart o da Beethoven o da chi per loro, si studiano tanti tanti mesi e anni di tecnica, scale, arpeggi, esercizi per l'indipendenza delle mani, esercizi per aumentare la muscolatura delle dita, tecnica pura, in casi a pire, il classico esercizio che se avete un parente o solo un vicino che studia musica li avrete sentito fare tante volte. Esercizio appunto per sviluppare non la musica ma la tecnica e quindi il muscolo, detto brutalmente. Questa cosa Scaramuzza non la fa? Scaramuzza ha la particolarità in questo non del tutto nuovo perché anche Cortot faceva questa cosa di quasi ignorare gli esercizi di tecnica pura ma di applicarli sempre al pezzo che si sta suonando cioè dire se c'è un passaggio che non viene si lavora esclusivamente su quel passaggio e non su altri esercizi di tecnica che poi per conseguenza indiretta dovrebbero portare alla risoluzione di quel passaggio no si lavora direttamente sul passaggio mentre la maggior parte degli insegnanti ripeto fa fare fa fare il contrario fare tanta tecnica e poi applica quella tecnica al singolo passaggio l'altra cosa su cui Scaramuzza era dicono tutti ossessivo e ossessionato era avere il suono giusto per ogni autore quindi mentre in tanti casi come dire il suono si forma dopo una prima parte del dell'apprendimento tecnico quindi prima impariamo i muscoli poi vediamo la bellezza di come questa cosa va applicata invece nel metodo Scaramuzza il tocco è già parte integrante all'inizio del dello studio ed è parte integrante e inscindibile di quello che sarà il suo il suo metodo così come suonare i pezzi lentamente anche per mesi e mesi e mesi fino a raggiungere il risultato tecnico ma soprattutto espressivo voluto perché sull'espressività sulle musicalità sul fraseggio Scaramuzza punterà tutto ancor più che sulla tecnica che è solo esclusivamente un mezzo per raggiungere per raggiungere i risultati estetici che si è riproposto e questa cosa comporta che ogni passaggio debba avere dal punto di vista muscolare un movimento preciso e che debba essere sempre quello per cui se su quel passaggio quel dito deve fare così dovrà fare sempre così non dovrà mai fare così cioè il movimento deve essere sempre i denti adesso ve l'ho ovviamente semplificata ve l'ho anche un po' banalizzata sicuramente però come dire ci deve essere una memoria muscolare del movimento che in qualunque esecuzione di quel pezzo deve restare esattamente e sempre quel movimento quindi come detto la fama di Scaramuzza in argentina è quasi leggendaria ma come detto ovviamente in tutto il mondo conoscono e apprezzano questo straordinario didatta che appunto avrebbe però potuto semplicemente diventare molto più più famoso banalmente se avesse pubblicato lui in prima persona un trattato un suo metodo di un suo metodo di studio dello strumento bene io ringrazio giorgio per la realizzazione di questo video scrivete nei commenti se vi siete mai imbattuti in Scaramuzza o in uno dei suoi allievi scrivetevi cosa ne pensate eventualmente anche di altri metodi di altri metodi didattici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video non mancate grazie